Wabalaba dab dab e bentornati su No Mammazzo, bentornati nella rubrica film in uscita. Sono felice di parlare di nuovo di film in uscita, anche se ovviamente non si possono vedere ancora al cinema perché le sale cinematografiche sono ancora chiuse, ma ci pensano le piattaforme streaming, come nel caso di Prime Video, che ci ha sfornato venerdì scorso Il Principe Cerca Figlio, sequel del famosissimo cult del 1988, Il Principe Cerca Moglie, diretto da John Landis. Prima di cominciare vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, o un non mi piace, non c'è problema, di condividere il video con tutte le persone che sono re di Zamunda o anche principi di Zamunda, non ci formalizziamo, e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film e della mia recensione. Scrivetevi anche agli altri miei social per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche se volete proprio essere aggiornati su tutto, 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 tutto quello che esce su YouTube. Bene, cominciamo. Il Principe Cerca Figlio, dal titolo originale Coming to America. Gioco di parole tra il titolo del primo film, Principe Cerca Moglie, Principe Cerca Figlio, e Coming to America, Coming to America. Ci tengo a dirlo perché poi ne voglio parlare un attimino anche del titolo e di quanto c'entri effettivamente con la trama. Allora, per pulire ogni dubbio che potreste avere, il film mi è piaciuto, lo dico perché non a tutti questo film è piaciuto. Io sono un estimatore del primo film, l'ho adorato, lo adoro tuttora, è un film di quelli che non me ne ero nemmeno accorto di quanto mi piacesse finché non l'ho rivisto in età adulta, di quanto mi era entrato dentro un film comico così leggero quando ero bambino. È un film che si riguarda sempre volentieri e quando ho saputo la notizia che il Principe Cerca Moglie avrebbe avuto un sequel sono rimasto davvero contento perché nonostante, lo so, che i sequel fatti dopo 30 anni sono per la maggior parte delle ciofeche assurde, comunque mi sarebbe piaciuto vedere Eddie Murphy e la sua squadra, diciamo, la sua compagnia teatrale, cinematografica, che si era creata nel primo film, mi sarebbe piaciuto rivederla di nuovo insieme, a divertirsi, come si è divertita nel primo film e questa cosa l'ho vista, si percepisce. Purtroppo si percepisce anche il salto dello squalo che c'è stato per quanto riguarda la comicità di Eddie Murphy che abbiamo avuto negli anni 80 fino al primo Professore Matto come spartiacque e quella che c'è stata dal Professore Matto 2, in poi, che è stata una comicità sempre più volgare, un po' più becera, meno divertente, infatti Eddie Murphy, la sua cinematografia è calata drasticamente, per quanto riguarda i film comici, le commedie proprio cacciarone, sono calate drasticamente come qualità, un po' come è successo, anche se non voglio lontanamente paragonarli, ai cinepanettoni, come erano negli anni 80 e come sono diventati adesso. Fortunatamente, nonostante ci sia un pizzico di questo Eddie Murphy anche nel Principe Cercafiglio, il film non è così brutto da questo punto di vista, la comicità del primo film è mantenuta, è vero, ci sono delle volgarità, ma c'erano anche nel primo film, la storia in generale è piacevole anche se non scorre bene come nel primo film. Ovviamente, premessa, il primo film non è paragonabile, non si può battere, non si può surclassare ovviamente da un sequel, tanto meno per un sequel uscito 30 anni dopo, ovviamente non c'è paragone con il primo film, ciò nonostante, è un bellissimo omaggio al primo film, è un atto d'amore verso i fan più sfigatati di questo film. Dicevo, la storia non è così scorrevole come nel primo film, perché nonostante il titolo originale sia Coming to America, quindi appunto tornando in America, diciamo, per tradurlo un pochino letteralmente, in America ci si sta davvero poco, si sta solo nella... un piccolissimo quarto d'ora, neanche nel primo quarto d'ora, il primo quarto d'ora si ha Zamunda, si fa un piccolo viaggetto in America, come è successo all'inizio del primo film, ma si ritorna subito in Africa, si ritorna subito nel regno di Zamunda per poi tornare in America verso la fine del film per poi ritornare a Zamunda. Quindi c'è un po' questo avanti-indietro dall'America che suppongo non sia assolutamente per questo che si chiami Coming to America, cioè non voglio sperare che non sia per questo che ci sia il... che vanno due volte in America e fanno il viaggio avanti-indietro, spero di no, che appunto spezza un pochino il ritmo di questo film che dovrebbe essere un film comico e quindi dovrebbe essere... dovrebbe farci ridere con molta, molta spensieratezza. E invece allora, la trama è questa fondamentalmente. La storia parte trent'anni dopo il matrimonio tra il principe A-Kim e Lisa del Queens. Il passato torna a bussare alla porta del principe A-Kim perché come sappiamo per lui per sposare Lisa per amore ha mandato a monte un matrimonio combinato e nel regno di Zamunda i matrimoni combinati uniscono nazioni, uniscono regni e una mancata unione di un regno può portare alla guerra ed è quello che succede perché arriva il generale che altro non è che il regnante diciamo della nazione con cui non è andato bene il primo matrimonio che si chiama Nexdoria Nexdoria Nextdoor vabbè certe cose è meglio non imparare l'inglese per scoprirla comunque che è interpretato da Wesley Snipe un Wesley Snipe che non vedevo da molto tempo il Wesley Snipe sa essere anche comico nonostante è un attore d'azione qui è un pochino sopra le righe nonostante stia recitando con Eddie Murphy ma capita spesso quando gli attori di azione vogliono fare un po' troppo i comici però non sto dicendo che non mi è piaciuto anzi poi ci arriviamo quando parliamo dei personaggi il generale di Nexdoria interpretato da Wesley Snipe è arrabbiato perché la sorella sua sorella è ancora sotto l'incantesimo del principe Hakeem dei 30 anni prima ovvero sta ancora saltellando e abbaiando come un cane ed è per questo che innanzitutto è arrabbiato e poi perché appunto la sua nazione sta facendo la fame perché non c'è stata l'unione delle due casate e vuole una risoluzione con i figli del principe Hakeem peccato che il principe Hakeem non ha figli maschi ha tre splendide fanciulle femmine di diverse età proprio a rappresentare la classica famiglia che vediamo anche nelle sitcom con i figli con tre fasce d'età diverse quindi che affrontano tre tipologie di problemi diversi a seconda della loro fascia d'età questa cosa mi è piaciuta molto che però non possono diventare regine di Zamunda ovvero potrebbero anche loro sposare con un matrimonio combinato che tanto per la cronaca non vogliono non vogliono che avvenga potrebbero sposare con un matrimonio combinato il figlio del generale di Nexdoria ma non sarebbero loro le regine di Zamunda ma il figlio del generale di Nexdoria diventerebbe re di Zamunda quindi c'è questa doppia intenzione del principe Achim di non voler far sposare le proprie figlie in un matrimonio combinato perché lui stesso è fuggito da un matrimonio combinato ma anche il desiderio di non far sedere sul trono di Zamunda qualcuno che non sia uno zamundiano ma sia un Nexdoriano che è una nazione rivale fondamentalmente soprattutto alla luce del fatto che il generale di Nexdoria è uno stronzo e non vorrebbe mai dare questa soddisfazione al generale ovviamente c'è ancora il tema della legge della tradizione di una nazione antica che segue queste tradizioni pedissequamente che casualmente non si possono cambiare fino alla fine del film esattamente come nel primo film e quindi Akim cosa può fare se non sottostare ai voleri di questa legge se non fosse che c'è un episodio di retcon ovvero di sistemazione della continuity di quello che è successo nel primo film dove mostrano nella famosa sera una sequenza super comica del primo film in cui il principe Akim e il suo servitore Sammy andavano per locali per cercare la moglie perfetta per il principe Akim si scopre che Sammy che voleva solo farsi una sveltina ha ben pensato di combinare una serata con due ragazze una per se stesso e una per tenere buono il principe Akim in una di queste sere in cui appunto prima ancora di conoscere Lisa in una di queste sere in cui loro andavano per locali e pare che questa ragazza che appunto ha fatto l'amore col principe Akim sia rimasta incinta di un figlio e pare che Akim non ne sia mai stato a conoscenza fino ad ora perché in quella serata era in stato di ebbrezza si vede che pare che questa ragazza stesse fumando le sue erbe come le ha definite il principe Akim e che quindi il principe Akim stesso che si sa veniva da un mondo privo di vizi si vedeva che era molto virtuoso che non aveva provato nulla del mondo occidentale probabilmente aspirare questi fumi di queste erbe aromatiche occidentali del Queens gli ha fatto dimenticare che aveva fatto l'amore tra virgolette che aveva fatto sesso con questa ragazza che è poi la madre del suo unico figlio maschio anche se illegittimo la cosa che mi è piaciuta di questo film e che stranamente mi è piaciuta perché di solito non mi piace questa operazione nei film è che la storia parte solo con il protagonista il principe Akim che poi diventa il re Akim per poi spostarsi e concentrarsi sul figlio Lavelle Johnson che viene recuperato in fretta appunto dal Queens per poi passare la maggior parte della pellicola a Zamunda e ci si concentra sui desideri sulle paure di Lavelle Johnson sul suo la sua nuova condizione di principe di come si deve adattare a questa realtà e ci affezioniamo comunque al personaggio ci affezioniamo al suo rapporto con la sua barbiera reale tifiamo per questa coppia mi è piaciuto come Eddie Murphy abbia saputo mettersi da parte per raccontare di nuovo in un'altra salsa la storia di un giovane principe senza appunto essere lui il vero protagonista di solito quest'operazione non mi piace perché i nuovi e le nuove generazioni non hanno lo stesso carisma di quello che si è visto nel primo film invece qua il protagonista mi piace mi piace come ha interpretato questo ruolo mi piace proprio come sia diventato appunto il principe del queens a Zamunda e devo dire che forse è stato meglio così perché appunto come ho detto all'inizio Eddie Murphy ha un pochino perso il suo smalto da qualche anno a questa parte quindi mettersi da parte giusto per fare il ruolo comico ma lasciare la storia romantica alla nuova generazione è stata una scelta azzeccata senza che lui comunque che appunto diventando re diventa a tutti gli effetti come suo padre quindi un re molto rigido impaurito dalla stessa tradizione non manca comunque di avere un momento romantico nel terzo atto del film ovviamente con la sua amata regina Lisa del Queens e anche qua mi è piaciuto tantissimo che hanno citato le stesse canzoni quindi quando c'è un momento romantico o quando si cita la storia d'amore tra Hakim e Lisa ci sono ancora le note di Someone to Care la canzone che li ha accompagnati quando si sono baciati per la prima volta qui vediamo cantata dal vivo con una piccola orchestra all'interno della casa reale questo mi è piaciuto molto ma non è l'unica citazione le citazioni sono tantissime poi ne parliamo insieme vorrei parlare un po' dei personaggi che essi stessi sono una citazione al primo film appunto ho parlato adesso del principe Hakim vorrei parlare anche di Sammy che purtroppo in questo film non mi sembra abbia lo stesso smalto che nel primo si vede poco ha poca presenza ha poca presenza con Hakim che è vero è sposato quindi passa più tempo con la moglie passa più tempo con le figlie ma non per questo noi dobbiamo vedere questo tempo potremmo vedere comunque un sacco di sequenze insieme al suo amico Sammy invece vediamo solo l'inizio in cui vanno insieme nel Queens ma ci stanno davvero pochissimo per poi appunto tornare a Zamunda e a parte questa piccola citazione al viaggio che hanno fatto insieme Hakim e Sammy in realtà Hakim e Sammy stanno davvero poco insieme da soli e non ci sono delle gag che nascono dal loro rapporto tranne appunto quando scopre di avere un figlio e cerca di strangolarlo ma a parte quello non si sente quel sano rapporto genuino che c'era quasi fraterno che c'era nel primo film Sammy invece ha una specie di nuovo rapporto con lo zio di Lavelle Johnson di amore e odio più odio che amore che appunto sfoce in un'amicizia nel finale del film che però non mi è piaciuto molto parliamo dei personaggi che c'erano anche nel primo film e che sono interpretati sempre da Eddie Murphy e da Arsenio Hall ovvero i personaggi dei Barbieri che vediamo anche qua ovviamente nella parte del Queens è bello vedere come ci siano ancora dopo 30 anni come cerchino nel 2020 di adattarsi al Politically Correct come cercano dei vecchietti così sboccati così volgari di adattarsi al 2020 facendo qualche piccolo strafalcione ma comunque apprezzo l'impegno e nascono delle gag comiche anche da questo ovviamente anche qui c'è un po' di volgarità ma c'era anche 30 anni fa ovviamente non era così incentrata sul sul sesso diciamo le volgarità erano per lo più turpilocchio erano per lo più parolacce qui effettivamente sono un pochino di più sessualizzate le volgarità presenti nel film però devo dire che non c'è una grande discrepanza tra 1 e 2 come per esempio c'è stata tra Sceme più Scemo 1 e 2 dove Lloyd e Henry sembravano davvero dei vecchi sporcaccioni nel secondo film per quanto riguarda invece il reverendo Brown che è sempre interpretato da Arsenio Hall non mi è piaciuto molto nel senso che è stato sfruttato giusto perché sì e non ha fatto chissà cosa giustamente stando per la maggior parte del tempo a Zamunda e non nel Queens è stato impossibile usare i personaggi del Queens in modo copioso però l'hanno comunque voluto inserire è stata un po' una forzatura però vabbè lo abbiamo avuto ci hanno dato il contentino sono stato invece molto felice del fatto che abbiano usato Randy Watson e l'abbiano usato nel finale ce l'hanno fatto diciamo attendere fino alla fine non mi è piaciuto molto che abbia cantato una canzone così bella allegra anche se ci sta nel finale che si concluda in questo modo però diciamo Randy Watson è per antonomasia il cantante che non si fila a nessuno però vabbè mi è comunque piaciuto le canzoni sono tantissime tantissime in questo film mi è dispiaciuto un pochino che alcune potevano essere doppiate come nel primo film però capisco che nel 2020 non si doppi più come nel 1988 capisco che certe cose ora è normale che vadano lasciate in originale con i sottotitoli mi riferisco alla canzone di O.A. O.A. cantava sarà la principessa poi regina prosperosa tutto in falsetto qua lo fa sempre canta sempre in falsetto quando arriva la pretendente al trono di Zamunda ma lo fa in inglese anche perché non lo fa a cappella ma c'è la musica poi canta anche la principessa perché è una cantante l'attrice che fa la principessa di Next Doria è una cantante poi canta anche Lavelle Jones quindi ci sta era impossibile far cantare il primo pezzo in italiano per poi far cantare il resto della canzone in inglese però ecco sarebbe stato più bello per noi affezionati al primo film sentire O.A. che cantava di nuovo in falsetto in italiano comunque dicevo è pieno zeppo di canzoni poi magari ci arriviamo parliamo degli ospiti appunto gli attori principali sono anche dei bravissimi cantanti ma poi ci sono dei veri e propri cantanti che hanno fatto dei cameo nel film probabilmente proprio perché adorano il film come lo adoriamo noi i personaggi di Lisa la moglie e Cleo sono usati poco ovviamente è normale che un personaggio non comico come Lisa perché Lisa rappresentava diciamo il sogno d'amore di Achim non aveva dei ruoli comici adesso sia abbia preso il loro ruolo dei saggia regina che era appunto della regina madre nel primo film attrice che se non sbaglio è scomparse quindi non è presente in questo film è normale che abbia un ruolo un pochino più diciamo un po' più contenuto però mi piace come l'abbiano usata ce l'hanno usata in modo saggio è la voce del cuore dell'anima del principe Achim che invece appunto si è trasformato un po' in suo padre nel re Geoffrey Joffer quindi vediamo fondamentalmente dopo 30 anni vediamo la saggezza della regina madre che fa ragionare il re Geoffrey Joffer trasformata in Lisa e Achim per quanto riguarda invece suo padre Cleo sono stato molto felice di vedere che è riuscito ad aprire un MacDowell anche a Zamunda però lo hanno davvero davvero sfruttato poco a parte appunto le battute in cui si giustifica di non aver copiato un MacDonald che per carità fanno ridere però avrei preferito qualche gag comica in più nel primo film Cleo è stato sfruttato bene nella scena finale in cui c'erano Daryl Patrice il barboncino che attaccava Daryl arrivava il re quella scena era oro puro quell'attore era stato bravissimo qui lo hanno usato poco mi è piaciuto che l'hanno usato come consiglio paterno nel finale però dal punto di vista comico mi è dispiaciuto che l'hanno sfruttato poco Cleo MacDowell grandi assenti Daryl Patrice e soprattutto la lacca Soul Glow Soul Glow è l'unica canzone che non è presente nel secondo film ed è un vero peccato avrei preferito che la mettessero anche solo per pochi secondi per almeno una delle due volte in cui vanno nel Queens anche solo come citazione anche solo come cartellone pubblicitario mi sarebbe piaciuto peccato peccato grandissimo assente Soul Glow per quanto riguarda invece i personaggi nuovi come vi ho già detto il principe Lavelle Jones sa rubare la scena al suo padre il re Hakim ovvero Eddie Murphy il suo rapporto con la barbiera reale che appunto ruba il cuore di questo principe mandando a monte l'ennesimo matrimonio combinato con la nazione di Nexdoria è davvero genuino e davvero puro e ci ricorda tantissimo la storia d'amore che avevano Hakim e Lisa la mamma invece di Lavelle Johnson interpretata da Leslie Jones che i fan di Ghostbusters conosceranno per aver interpretato quell'orrendo reboot del 2016 è una comica del Saturday Night Live che a me fondamentalmente piace però una cosa che sto notando è che le fanno sempre fare lo stesso personaggio ovvero il carattere stereotipato della della donna nera del Queens poco istruita che si comporta in modo appunto prende un po' confidenza con persone nobili le tratta come se fossero fratelli che allora è un po' trito e ritrito come ruolo però per carità è una commedia senza troppi pensieri non bisogna fare chissà quali approfondimenti quindi ci sta ci sta che tra tutte le attrici che potevano fare questo tipo di ruolo abbiano scelto Leslie Jones perché comunque è perfetta per questa parte purtroppo non ha giovato alla volgarità del film perché Leslie Jones comunque non ha una comicità tanto scevra dalle volgarità quindi lei stessa aggiunge un paio di scene un po' volgarotte ho già parlato del generale interpretato da Wesley Slides all'inizio la figlia del generale che dai trailer era vestita anche lei in modo militaresco sembrava appunto un nuovo carattere forte invece vediamo che probabilmente hanno cambiato il film in corso oppure la scena non lo so serviva ad altro non c'è questo personaggio della principessa di Nextdoria vestita in modo militaresco si scopre che nonostante abbia un aspetto feroce perché l'attrice stessa è abbastanza ha questo aspetto di donna forte in realtà è l'ennesima principessa di Nextdoria che è stata istruita per compiacere totalmente il principe di Zamunda e tutto ciò che la rende felice è tutto ciò che rende felice il principe di Zamunda mi è piaciuta molto questa citazione alla scena iniziale del principe cerca moglie anche se ormai era come l'hanno messa in questo secondo film era già palese che Lavel non avrebbe scelto la principessa di Nextdoria però è stato bello comunque far capire un po' di più se qualcuno ancora non l'avesse capito che Lavel come Hakim volesse una compagna vera una compagna per la vita con cui confrontarsi e non qualcuno che annuisse a tutto ciò che lui voleva c'è anche un nuovo personaggio interpretato sempre da Arsenio Hall che pare sia sua madre che è la sacerdotessa che ha previsto diciamo il fatto che Hakim avesse un figlio mi piace mi è piaciuta come gag anche lì poi ci sono un paio di scene un po' troppo volgarotte un po' forzate però diciamo che di per sé avrebbero potuto non usare questo personaggio avrebbero potuto fare in modo che che Sammy raccontasse comunque l'aneddoto di questa notte di di sesso inconsapevole da parte di Hakim senza essere sicuro che ci fosse un figlio per poi fare un viaggio un po' più lungo in solitaria a Sammy e a Kim alla ricerca di un ipotetico figlio in modo da stare un pochino di più in America invece con questo escamotage della sacerdotessa mamma di Sammy tutta strana tutta che ha le visioni la presenza del figlio illegittimo era un colpo sicuro e quindi appunto si è stato si è stati pochissimo nel Queens per poi appunto focalizzarsi sulla storia a Zamunda di Lavel e della sua Barbiera Reale per carità mi è piaciuto molto anche che sia andata così però questo personaggio ha un po' giocato su questo fattore se non ci fosse stato questo questo personaggio la ricerca del figlio sarebbe durata di più esattamente come la ricerca della moglie nel primo film ultime ma non meno importanti le tre figlie soprattutto la figlia maggiore Mika che ha un ruolo importante perché ha un ruolo di figlia forte che si è allenata tutta la vita a poter regnare su Zamunda pur sapendo di non poterlo fare perché la tradizione non vuole una regina quindi se mai sarebbe stata moglie del re zamundiano venuto da fuori cioè nonostante è la più preparata lì dentro per diventare regina si vedono un pochino meno le due sorelline però si capisce tranquillamente che sono un po' come le tre le tre figlie adottive di gru di cattivissimo me cioè la figlia più grande la figlia di mezzo in questo caso la figlia di mezzo è quella un po' un po' più secchiona e lo rappresentano un po' i suoi occhiali infatti aiuta la Velna a istruirlo sulla storia di Zamunda e poi c'è la piccolina che è un po' la piccola peste quindi un po' questi caratteri stereotipati però che sono stati piacevoli da avere nella famiglia di Hakim e Lisa vorrei parlare un attimino degli effetti speciali perché si vede davvero che qua c'hanno i sordi rispetto al film dell'88 dove c'era una fantastica intro che però si capiva almeno a un occhio allenato che quando si entrava nel regno di Zamunda soprattutto nel palazzo reale c'era un fantastico fondale dipinto qua invece grazie alla CGI si entra proprio nel regno di Zamunda e Zamunda non è mai stata bella come in questa intro si vede il palazzo in ogni sua sfaccettatura si vedono un sacco di animali che percorrono le pianure anche le colline africane si vede da vicino un elefante si vede che è CGI per carità però è fatto bene si vede un leone sempre in CGI è fatto bene mi è piaciuto davvero tanto che avessero a disposizione questo budget e lo abbiano sfruttato bene sempre parlando di effetti speciali la scena appunto di retcon in cui Arsenio Hall in cui scusate il servitore Sammy e il principe Akim vanno nei locali e hanno ovviamente è stata girata per forza adesso e probabilmente hanno usato degli attori un po' più giovani un po' più magri con la capigliatura che avevano al tempo e hanno fatto diciamo un face un double un deep fake scusate però comunque l'hanno fatto bene mi è piaciuto vedere un giovane Eddie Murphy in una scena inedita un giovane semi in una scena inedita hanno usato bene gli effetti speciali mi sono piaciuti tantissimo anche i costumi i costumi zamondiani sono strepitosi fondamentalmente quando si allenano e lo stesso principe invece lo stesso principe Lavel quando viene vestito come un principe zamondiano fondamentalmente indossano tutti delle tute da ginnastica ma piene di orpelli ma sono comunque tutte perché si vede anche il logo della Puma quindi è fantastico come hanno personalizzato hanno creato diciamo degli abiti tradizionali zamondiani c'è stata anche una piccolissima citazione al Wakanda ovviamente non potevano fare di più che nominarla per scherzo perché sennò credo che la Marvel avrebbe voluto un sacco di sordi quindi a me sarebbe piaciuto se l'avessero nominata come nazione vicina a Zamunda invece l'hanno solo nominata per scherzo perché non avendo mai sentito parlare di Zamunda lo zio di Lavel dice cos'è Zamunda Wakanda è stata comunque una piccola citazione a quello che è stato Black Panther per tutto la popolazione nera ma anche africana che non aveva mai avuto un supereroe da blockbuster che rappresentasse l'Africa quindi è stato carino che l'abbiano citato dicevo ci sono dei cammei illustri partendo da Morgan Freeman da un sacco di cantanti che io comunque non conosco come le Salt and Pepper Gladys Knight conosco invece appunto John Legend che ha cantato la canzone finale di O.A. nei titoli di Coda tutti volevano partecipare in questo sequel perché il primo film ha toccato il cuore di tante tante persone per quanto riguarda noi italiani vorrevo parlare un attimino di doppiaggio non si può parlare di questo film senza parlare dell'assenza di Tonino Accolla che purtroppo è venuto a mancare Tonino Accolla è il doppiatore del principe Akin e di tutti i personaggi che interpretava Eddie Murphy nel primo film è stato sostituito da Fabrizio Vidale che è il doppiatore per intendersi di Jack Black se può arrivarvi un pochino all'orecchio questa voce devo dire che comunque ha fatto un ottimo lavoro non si sente tantissimo l'assenza di Tonino Accolla anche se Tonino Accolla aveva un metodo tutto suo di doppiare di adattare il doppiaggio sicuramente c'è una grande assenza che è la risata di Eddie Murphy che nel primo film ovviamente c'era qua ci sono un paio di sequenze in cui il principe Akin ride ma noi non lo sentiamo ridere sicuramente Accolla l'avrebbe messa lì quella risata che qua non c'è però è ovvio che Fabrizio Vidale non voglia scimmiottare Tonino Accolla ma voglia fare un lavoro di attore diverso per rendere giustizia al principe Akin senza appunto scopiazzare quello il lavoro che aveva fatto Tonino Accolla perché appunto non è un imitatore di Accolla ma è un attore che fa un lavoro di doppiaggio quindi comunque molto complimenti a Fabrizio Vidale mi è dispiaciuto che anche il doppiatore di Semmi fosse cambiato nel primo film era Teo Bellia che per intendersi è il doppiatore di Tom Tucker nei Griffin che invece appunto è ancora vivo qua invece nel secondo il servitore Semmi è doppiato da Oreste Baldini un doppiatore che a me piace tantissimo e che forse si adatta anche di più a un Semmi invecchiato ma appunto avrei preferito magari sentire un pochino ancora la voce di Bellia giusto per accorgermi di meno almeno dell'assenza di accolla chiusa parentesi anche sul doppiaggio ragazzi non facevo una recensione così lunga dai tempi da almeno due anni scusate ormai ero riuscito a raggiungere i dieci minuti sono arrivato a mezz'ora mi dispiace se mi sono dilungato troppo ma ci tenevo a dire tutto quello che mi è piaciuto e non mi è piaciuto di questo film grazie se mi avete seguito fino a qui vi ringrazio tantissimo io come sempre vi saluto con l'inchino e con l'imbuto e vi dico arrivederci al prossimo video e speriamo tutti che il prossimo video di film in uscita sia sempre più vicino e sia al cinema arrivederci e vi ringrazio 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 e vi ringrazio